Alberto Stasi, presidente del Macchia di Senna, arriva questa vittoria netta, ampia e meritata sul cambio dell'Olimpia Riccia. Il giorno è andato ormai quasi chiuso, titolo di inverno vicino, quindi meglio di così non si può. Siamo contenti più che altro perché stiamo facendo un bel campionato, sta dimostrando la squadra di essere all'altezza della situazione. Mi fa piacere arrivare prima al girone di andata. Avete anche molte risorse dalla panchina, infatti sono entrati due ragazzi che hanno realizzato il quarto e il quinto gol, quindi una rosa ampia, tutti importanti, tutti utili per coronare questo sogno, che oltre al campionato c'è anche la Coppa Italia, ormai siete con un piede in finale. Sì, è vero e devo dire una cosa, a ragione di quello che state dicendo, è che la squadra, sono 18 ragazzi, uno più bravo di un altro. Chiunque entra fa il suo dovere e poi abbiamo uno staff tecnico che li segue, gli dà tanta di quella fiducia e i ragazzi rispondono bene. Messa di dicembre, messa anche di mercato, voi avete in mente di fare qualche movimento? No, niente, noi abbiamo fatto un acquisto che ci serviva, era un attaccante di ruolo e l'abbiamo preso di Matteo e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Continuiamo così e tiriamo avanti. L'importante è stare sempre in guardia e giocare sempre concentrati.